E questa è la Jam, Michael Jackson, canzone contenuta in Dangerous e canzone soprattutto che è abbinata a un filmato che forse ricorderete, filmato bellissimo in cui lui insegna a ballare a Michael Jordan, la stella della gente di colore in America attualmente, e Michael Jordan insegna invece a Michael Jackson a giocare a pallacanestro, è uno scambio vicendevole fra due grandi Michael. Facciamo una piccola pausa, tra poco ancora Michael Jackson dal vivo da Bucharest su Canale 5, ci vediamo tra poco.